Il Sanzisto ipoteca la finale di Coppa di Eccellenza superando 4-2 e Lama in trasferta grazie ad un primo tempo d'applausi a Urrusso. Formato gigante, mattatore assoluto con una tripletta. Bastano 20 secondi al puntero per firmare l'1-0 sul cross dalla sinistra di Ardone. Taglio alle spalle di Cappellacci e Sanzisto in vantaggio. 8 minuti e sul cross dalla sinistra di Siena, Russo ruba il tempo a Borgo che lo stende sul primo palo. Rigore ed agli 11 metri l'attaccante fa 2-0. Il Lama, disegnato da Vicarella all'insegna del turnover senza Capitan Volpi infortunato con un 4-3-3 con Becci in porta, Bastianoni, Borgo, Cappellacci e Capannelli in difesa, Lanzi, Bernicchi e Lucaccioni in mediana, con Veneroso, Fode e Steva Fanno Bartolini in avanti, accende una reazione con Fode, ma De Marco è bravo a negargli la gioia del gol prima al quindicesimo, poi al minuto 25 quando l'attaccante non crede ai suoi occhi. La via del gol la trova così ancora il Sanzisto con il solito Russo che al 37esimo, servito da Marcaccioli, si invola sul filo del fuorigioco in contropiede, dribbla Lanzi e la piazza nell'angolino dove Becci non può arrivare. Applausi per il 4-3-3 di Riberti, privo di Capitan Stella, auguri di pronta guarigione dopo l'intervento alla mano, e di Brescia con 5 fuori quota in campo dal primo minuto. Si va all'intervallo sul 3-0 per il Sanzisto che rientra, sempre con De Marco fra i pali, Nardi, Benda, Parmigiani e Siena in difesa, Ceccomori, Bottega e Milletti a centrocampo con Marcaccioli, Russo e Ardona a formare il tridente d'attacco. Piccarelli invece inserisce subito Bartolucci, Mambrini e Ghirelli nella ripresa per Veneroso, Lucaccioni e Borgo. Il Sanzisto però parte di nuovo forte e dopo due minuti trova il 4-0 con Ceccomori che finalizza così una combinazione perfetta tra Marcaccioli e Russo. Riberti concede la standing ovation a Russo al minuto 54, poi si scuote il Lama che sfiora il gol con il neoentrato Mambrini, ma De Marco c'è, tocca così all'altro neoentrato Bartolucci procurarsi il rigore che l'anzi trasforma dopo l'intervento fallosinare di Polverini. Bartolucci si mette in proprio al 62-esimo e di testa sul secondo palo, sull'angolo di Bernicchi, firma il 2-4. La gara si mette in discesa per i padroni di casa con il Sanzisto che resta anche in 10 al minuto 68 quando Bottega rimedia il secondo giallo. Forte dell'uomo in più, la formazione di Biccarelli ora fa la partita ma il Sanzisto tiene e concede solo una chance al minuto 83 quando Stefano Bartolini viene messo giù in area. Cipolloni indica ancora il dischetto ma stavolta l'anzi calcia alle stelle. Finisce 4-2 per il Sanzisto che ora, in attesa della gara di ritorno in programma mercoledì 10 ottobre, vede la finale ad un passo. Di fronte la vincente di Orvietana Foligno con la sfida d'andata al Muzzi terminata sull'1-1. Mi chiedi a Riberti una finale ipotecata con un primo tempo semplicemente perfetto. Finale ipotecata non tanto perché come abbiamo visto il secondo tempo è stato molto duro e sicuramente la partita di ritorno contro questa ottima squadra sarà dura. Però il risultato ci premia e sono molto contento di tutta la partita e del primo tempo in special modo. La menzione particolare per Peppe Russo? Peppe Russo non è che lo scopriamo adesso. è un grandissimo giocatore e è un ragazzo che dà tutto dentro il campo, in allenamento e per me è una delle pedine fondamentali del Sanzisto. Guido Viccarelli, che fine aveva fatto il Lama nel primo tempo? No, più che altro penso che abbiamo incontrato una squadra che aveva tenuto dei ritmi allucinanti. Siamo stati sorpresi dal Sanzisto, i meriti sono tutti loro. È chiaro che quando subisci 4 gol puoi dare solo merito agli avversari e naturalmente noi dovevamo stare più attenti. probabilmente dovevamo anche aspettarli perché dovevamo stare un pochino più chiusi. Abbiamo lasciato degli spazi a dei giocatori che ripartivano con una velocità impressionante. Grandi meriti vanno al Sanzisto ma noi dovevamo interpretare meglio la partita. Grazie a tutti. Grazie a tutti. Grazie a tutti. Grazie a tutti.